Decidere in autonomia come fare il mio lavoro. Sono brava e voglio dimostrarlo. Voglio lavorare bene, con calma e non per due lire. Ho scelto di essere freelance. Scegliamo di essere freelance per vocazione, spesso e volentieri. Questo non vuol dire che non debba rendere. Ne abbiamo parlato spesso qui al Boca in questi anni, Francesca ancora lo diceva ieri, la vocazione è quella che ci spinge tutti i giorni. Il denaro ci aiuta a vivere meglio. Oggi io ve ne voglio parlare da un punto di vista di misurazione oggettiva di quello che fate. La prima cosa su cui ragionare è che come freelance abbiamo l'enorme possibilità, ha libertà appunto di decidere che caratteristiche vogliamo dare al nostro lavoro. È un'opportunità immensa che ha delle conseguenze e delle implicazioni dal punto di vista economico. Se decido o mi ritrovo a lavorare per il cliente unico scelgo una situazione molto stabile nel breve periodo, un lavoro che conosco bene, un reddito quasi garantito tutti i mesi, sto anche scegliendo una situazione molto più instabile sul lungo periodo, perché se il fatturato di quel committente dovesse per un qualche motivo cedere mi ritroverai nei guai. Essere consapevoli dei riflessi economici della vostra attività in base alle scelte che avete fatto è il primo passo per poterle migliorare. Dopodiché il passo successivo è decidere come farlo. Quello che io vi consiglio oggi è, prima di mettere in azione, fermatevi un secondo anche a pensare a come misurerete le azioni che metterete in campo. Quindi prima pensate a come andrete a misurare quello che farete e poi lo fate. Questi sono, diciamo, dei principi validi un po' per tutti. Faccio una premessa per fare questo speech, ho intervistato quasi una decina di voi, siete tutti diversissimi, siamo tutti diversissimi. Qui in qualche modo vi racconto quelli che sono i principi di cui dovete tenere conto, perché tutti in qualche modo qualcuno un po' se lo perdeva. E poi vediamo come applicarli in pratica in una dashboard. Il primo è denaro e tempo. Ogni freelance ha due risorse fondamentali, denaro e tempo. Di solito ci concentriamo sul denaro, che non è altro che una metà della mela. In realtà è la fetta spesso più piccola, soprattutto all'inizio. La fetta molto più grande è quella del tempo. Quindi è come se voi foste una fabbrica con due macchinari e guardate solo come lavora uno dei due e non l'altro. Tenetene conto. I clienti, suddivisi per tipologia, anche se sono pochi, è un lavoro estremamente utile, perché riuscire a capire quanti nuovi clienti vi arrivano e come vi arrivano, se voi vi limitate a dire che vi arrivano dal passaparola, state fondamentalmente dicendo, sono come Manna dal cielo. Mi sono sempre arrivati, continuano ad arrivarmi, confido che mi arrivino anche in futuro. Così come i clienti che tornano. Quanti clienti ritornano da voi? Eh, ma io sono un consulente, io se faccio bene il mio lavoro non tornano. Sbagliato. Se voi fate bene il vostro lavoro, tornano. Con dei bisogni differenti, magari, perché i primi li avete soddisfatti perfettamente, ma hanno sviluppato verso di voi, verso le vostre capacità, una fiducia tale per cui magari tornano a chiedervi. Magari non vi compreranno un altro servizio, ma vi faranno capire quali sono i loro bisogni successivi. Vi mostreranno quanto hanno apprezzato il vostro lavoro e chiedendovi un consiglio su a chi si possono rivolgere per un bisogno che voi non potete soddisfargli. Quindi, tenete conto e misurate quanti clienti tornano da voi, sia in termini di fatturato effettivo, sia in termini di relazione post vendita, diciamo così. Il fatturato, se ho quattro lire in croce, dividerlo per tipologia mi sembra un po' di spaccare il capello in quattro. In realtà, se voi dite che avete un nuovo servizio che ha fatturato 300 euro, che è il 2% del vostro fatturato, e volete aumentarlo al 20% l'anno prossimo, vi state comunque dando un obiettivo di decuplicare il venduto di un certo servizio. Ragionate comunque per tipologie, per suddivisione, anche se sono cifre piccole. Se vi sembra assurdo, aggiungetegli i tre zeri, e poi però non fatevi troppa confidenza. Costi. I regimi fiscali possono essere i più diversi. Quello che è il mio consiglio è di dividerli, quantomeno in tre tipologie. Registrarli e dividerli. personali, aziendali e ibridi, misti. I misti sono ovviamente quei borderline, tipo magari la macchina, che sono di tipo personale, quando faccio certi ragionamenti, e aziendale quando ne faccio altri. I costi aziendali vi serve saperli per capire la vostra redditività, ne parleremo dopo, e per capire se siete in regime ordinario, quante tasse andrete a pagare a fine anno. Vi dà un'idea di quel costo, che è il costo fiscale. Se invece siete dei forfettari, vi permette di capire se il vostro regime forfettario funziona per voi. Se voi avete un regime forfettario al 22%, vuol dire che ogni 1000 euro di fatturato vi riconoscono 220 euro di costi e vi considerano il resto come utile. Se voi però per produrre quei 1000 euro di fatturato spendete il doppio, spendete 400 euro, c'è qualcosa che non va. Investimenti, lo uso in termine generico, come lo usiamo in una conversazione tra persone normali, tutto ciò che richiede un consistente investimento di risorse, tempo e o denaro e che non dà un ricavo direttamente conseguente a quello che fate. Ci sono investimenti, soprattutto di tempo, che non danno alcun ritorno economico. Siamo freelance anche per quello, per poter scegliere di dedicare il nostro tempo a delle cose in cui crediamo anche se non ci daranno nessun ritorno economico. Sapere quali sono le attività di questo genere e quali invece sono quelle su cui volete investire sperando in un ritorno economico vi permette di ragionare su queste ultime in termini di rendimento, il famoso ROI. Vedremo. Redditività è il valore che la vostra impresa, siete un'impresa individuale, siete un'azienda, è il valore che producete. di solito viene misurato come ricavi, meno costi, meno investimenti, in termini sempre colloquiali. La redditività è quello che fa sì che voi abbiate senso sul mercato sul lungo periodo. Chiedetevi che cosa state producendo in termini di valore definitivo. Tenete separati economia e finanza, soprattutto se siete in regime ordinario, ma non solo. Le tasse che andremo a pagare a giugno sono costi del 2018 e spese del 2019. I costi sono la parte economica, le spese sono la parte finanziaria. Se il vostro saldo di conto corrente a giugno non ha capienza sufficiente a pagare le tasse, avete sbagliato qualcosa o nel valutare i vostri costi dell'anno scorso o nel valutare le vostre disponibilità di quest'anno. Il saldo di conto corrente spesso è l'obiettivo pratico a cui ci affidiamo per capire come stiamo andando. Deve stare sopra questo minimo che è il mio livello di sussistenza. Se sta sopra questo minimo sono a posto. Se sta sopra questo minimo vuol dire che ti stai mantenendo non che stai lavorando bene. Poi è vero, siamo freelance, però usare esclusivamente l'indicatore della sussistenza economica vi state molto limitando. Semplicemente a chiedervi se riuscite a stare in piedi. Una volta al mese è più che sufficiente. Non di più, non di meno. Non diventiamo né compulsive né lasciamo perdere per mesi e mesi la vostra situazione. Passiamo alla pratica. Una dashboard non è altro che un cruscotto. È data driven se applichiamo quei principi di misurazione oggettiva di cui abbiamo detto fino adesso. altrimenti ci baseremo solo sulla nostra percezione, sul nostro sentimento, sui pareri degli amici, su come ci sembra che stia andando, sulle scuse che riteniamo valide, insomma su tutta una serie di valutazioni soggettive. Le valutazioni soggettive sono importanti se accompagnate da valutazioni oggettive vi permettono di prendere decisioni più forti in modo più sereno. Una dashboard è un cruscotto esattamente come quello di una macchina ed esattamente come quello di una macchina riporta solo quei due, tre indicatori fondamentali. il livello della benzina è sul cruscotto, la ventola dell'aria è di lato perché non è così fondamentale. quello che voi dovete mettere nel vostro cruscotto sono la misurazione di quelli che sono i vostri obiettivi principali che vi siete dati e delle azioni che avete scelto di mettere in campo per arrivarci. se non trovate un gestionale un'app o un software che faccia il caso vostro è normale proprio perché abbiamo la libertà di strutturarci come vogliamo e siamo esseri umani fantasiosi e creativi può essere che non ci sia lo strumento giusto per voi non siete sbagliati prendete uno strumento più flessibile anche se molto più brutto tipo gli spreadsheet di donata. Ok? Quindi una non era non era fatta apposta una una pagina in Excel che vi riporti quei 3-4 indicatori che sono quelli fondamentali per la vostra attività da qui ai prossimi 6 mesi un anno è più che sufficiente per tenere d'occhio tutta la vostra situazione. Sicuramente dovrete mettere dentro qualche ROI cioè qualche indicatore di ritorno dei vostri investimenti ad esempio potrebbe essere il numero di iscritti alla newsletter che è il vostro beneficio rispetto al costo che ci mettete per ottenerli magari avete scelto di fare la vostra newsletter in totale autonomia con degli strumenti ad uso gratuito e quindi il costo sarà semplicemente in tempo e voi vi siete dati un obiettivo di raggiungimento di un certo numero di nuovi iscritti come tutti gli indicatori questo diventa un numero puro se è uguale a 1 vuol dire che il sopra e il sotto hanno lo stesso identico valore cioè vuol dire che il vostro investimento non ha reso perché renda i benefici devono essere superiori ai costi quindi quindi da questo lato sarà positivo se voi raggiungete 10 nuovi contatti ovviamente sto supponendo che voi abbiate una strategia tale per cui voi sapete che raggiunti 10 nuovi contatti con la newsletter succederà qualcos'altro tale per cui il vostro lavoro migliorerà così lo tenete d'occhio in modo molto semplice e intuitivo i flussi di cassa il saldo di conto corrente è un altro valore soprattutto per i regimi ordinari su cui può essere interessante avere un indicatore e quindi tenerlo d'occhio soprattutto in termini di tipologie di ricavi e di costi poi nelle slide le potrete vedere meglio e in termini di previsto e effettivo se vi date un obiettivo di cassa datevelo in modo serio così ce l'avrete sempre presente oppure vi potete mettere degli indicatori su delle attività che volete potenziare ad esempio voglio aumentare il mio investimento in termini di formazione avere un'idea della suddivisione delle attività ti permette di capire se effettivamente stai riuscendo o potrai riuscire ad aumentare il tempo che dedichi alla formazione perché la torta è sempre la stessa da qualche parte lo dovrai togliere tutte le volte che potete fatevi un'idea a preventivo cioè di cosa vi immaginate di ottenere non importa quanto poi si rivelerà sballata vi serve per scendere a un livello concreto quanto pensate di ottenere a preventivo e poi misurate a consuntivo toglietevi i giudizi del tipo mio dio lavoro malissimo non può funzionare e invece usatelo come un vero e proprio strumento per capire tra la vostra idea di quello che fate e la vostra resa effettiva quanta distanza c'è è il primo passo per poterla accorciare nuovi clienti come arrivano i nuovi clienti anche qui se questo è uno dei vostri obiettivi potreste pensare di mettere in piedi qualcosa che misuri come arrivano con gli spreadsheet è facilissimo tra l'altro qua ci sono i nomi dei tanti volontari che hanno alzato la mano grazie grazie misurare i nuovi clienti dove sono passati all'interno dei vostri strumenti di marketing quanta fatica avete dovuto mettere in campo affinché che arrivassero fino a voi è un'informazione d'oro se questo per voi è un obiettivo importante e magari correlato poi al tipo di fatturato che ti possono dare diventa ancora più preziosa come indicazione quindi dopo che hai definito i tuoi obiettivi e come hai pensato di raggiungerli con quali azioni concrete scegli come le andrai a misurare ROI del gruppo facebook touch point del nuovo cliente tassi di ritorno scegli ne tre quelli fondamentali per i tuoi obiettivi e poi vai sarà sicuramente un successo grazie grazie grazie